Splendidi soggetti, l'antico cane da pastore inglese Coley Ruff Smooth Coley Shetland Sheepdog Pastore Svizzero Bianco Up and Do, Hollandese Welsh Corgi Pembroke Borda Culley Catalan Sheepdog Pastore Belgator Vuren A Briard Borda Culley Borda Culley Borda Culley Borda Culley Tricerbough Australian Kelpie Australian Cattledogue Comandor Pulley Pumi Cane da pastore tedesco a pelo corto Medium poodle black Barbone toy Standard poodle apricot Barbone nano nero Chinese crusted dog Cotton de Tulaire Bolognese Bichon avanese Bichon Frise Bifoncino di Bruxelles Shih Tzu Shih Tzu King Charles Peniel Bifoncino 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 Busson Terrier. Petit Bravanson. Chihuahua Apelolungo. Pug. Pekingese. Bulldog Francese. The French Bulldog just closed the competition of the best puppy. L'età di questi giovani soggetti è compresa tra i 6 e i 9 mesi, rappresentano i due gruppi esposti durante questa quarta giornata per l'esposizione mondiale canina. Abbiamo la prima razza selezionata, l'antico cane da pastore inglese. And white Swiss shepherd dog. Cane da pastore della Brie. Birnet Collie. Pastore tedesco. Petite bravanson. Shih Tzu. Bolognese. Barbone Nano Nero. L'ultima posizione libera per Riffon Bruxellois. So the best puppies of six to nine months of age from the FCI groups one and nine. All of these puppies were awarded this morning a very promising plus a world hope title of 2015 and then best of breed puppy. Già pronto davanti alla nostra giudice l'antico cane da pastore inglese, Old English Shepdog, la razza da conduzione del greggio originaria dell'Inghilterra, conosciuta in passato anche come Bobtail. Già. 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 The white swiss shepherd dog, quite a new breed definitely recognized in the FCI, it was, it received its final recognition just four years ago in Paris 2011. Cane da pastore della Bri davanti alla nostra giudice, cani da pastore conduttore anche in questo caso, ma andiamo in Francia per trovare le origini di questa razza. And this is the Bearded Collie, the breed that originates in Great Britain, and the standard says that it's active, full of intelligence and temperament, and it's an easy learning breed. Ed ora una razza tedesca, quella del pastore tedesco, selezionata da Max von Stefanitz, ponendo insieme tutte le caratteristiche attitudinali e di addestrabilità delle varie tipologie di pastore diffuse sul territorio tedesco. And on the table we have the Petit Provençon, the country of origin is Belgium, it shares the same standard also with the Grifon Brussels and Grifon Belge. This one has a smooth coat, unlike his other two brothers. Piccolo Brabantino davanti alla nostra giudice. Chizu, razza tibetana da compagnia. Il ciuffo e la coda devono essere alla stessa altezza. 2,5 centimetri la canna nasale per questa razza tibetana. Razza italiana, abbiamo visto prima la diciassettesima, tra i cani da compagnia è conosciuto il bolognese. Barbone nano nero, razza di origine francese, la razza dei barboni. Era una mente chiamata Barbone, nasce come cane da riporti in acqua ma si sviluppa come splendido compagno. And here we have the Grifon Bruxellois, or the Brussels Grifon on the table. We have told you before, it shares the same standard with the Grifon Belge and the Petit Brabantino. The Grifon Bruxellois is the rough coat variety with the red, in the red color. Abbiamo la stessa varietà rispetto allo stesso ceppo rispetto al piccolo brabantino che abbiamo visto poco fa per il Grifone di Bruxello. che però presenta il pelo duro. Vediamo quale sarà il quarto miglior cucciolone di questa esposizione mondiale. La nostra giudice scruta attentamente e decide che sul quarto gradino salirà il bolognese. 4th place for the Bolognese, representing Italy. La nostra giudice è la terza posta per il Shizu. Shizu è il terzo migliore pupo del giorno. D' da Russia. Secondo posto per il Pastore Bianco Svizzero. The White Swiss Shepherd Dog, representing Italy, is going to his second place. And the winner is... Ladies and gentlemen, best winner is... Bearded Collie, from Italy. The best puppy of the last, the fourth day of the World Dog Show 2015 is the Bearded Collie. We know the best minor puppies, we know the best puppies. We will very soon introduce to you the veterans. Those that have won the best of breed veteran within their breed. And four of them would be standing on the podium. But first, the picture taking time for the best puppies of six to nine months of age. Lasciamo il tempo dovuto ai nostri fotografi che hanno il tono artistico di poterlo fermare. We'll be right back. Grazie a tutti.